La seconda tappa del criterium cadorino di atletica ha avuto luogo in Val di Zoldo, una gara di corsa in montagna, disputata tra Pelmo e Civetta. Davanti a tutti si è posizionata l'atletica cortina sia nella graduatoria per società che in quella giovanile. L'atletica Zoldo si è aggiudicata la graduatoria per le categorie assolute. A livello individuale, successi assoluti per lo zoldano Isacco Costa e per la cortinese Sabrina Boldrin. Abbiamo avuto circa oltre 200 iscritti, da notare che di questi più di 30 erano zoldani iscritti all'atletica Zoldo, questo è un record per noi di partecipazione. Tra questi ci sono anche alcuni atleti di punta che hanno fatto proprio molto bene. Con l'occasione l'atletica Zoldo ha voluto ricordare Manuel Bratti, generoso amico dell'atletica belunese e della Val di Zoldo, prematuramente scomparso. Abbiamo voluto oggi ricordare Manuel Bratti che è stato, oltre che un amico e un collega nella scuola, è stato anche un promotore e un sostenitore dei nostri ragazzi negli allenamenti, sia qui a Zoldo che anche a Longarone. E quindi ci sembrava giusto ricordarlo in questa giornata di sport. Per gli appassionati di corsa in montagna, imperdibile il prossimo appuntamento organizzato dall'atletica Zoldo. I prossimi appuntamenti dell'atletica Zoldo sono la Dolomiti Extreme Trail, che è la manifestazione più importante e per la quale lavoriamo 12 mesi all'anno. E che vedrà al via quest'anno circa 1500 concorrenti, provenienti da 47 nazioni. Grazie. Grazie.